Ci saranno i più noti esperti della comunicazione pubblica e delle nuove tecnologie a Bari dal 1 al 3 dicembre a parlare di futuro, saperi e marketing nel corso del Festival dell'Innovazione. Per quell'occasione alla Fiera del Levante torna il Public Camp, il meeting internazionale dei comunicatori pubblici. Si terranno lezioni brevi su comunicazione della politica, social network, marketing e pubblicità. L'evento è stato presentato tra gli altri dall'assessore pugliese alle politiche giovanili Nicola Fratoianni e dal responsabile del settore comunicazione istituzionale della regione Eugenio Iorio. Oggi noi forniamo agli studenti e alle studentesse, ma a chi lo vuole, in modo gratuito, una grande occasione di alta formazione che in qualunque altra parte di questo paese probabilmente sarebbe oggetto di un master a pagamento. Il nostro obiettivo è costruire attraverso la concettualizzazione di un'offerta di sapere pubblico dei corsi, delle lezioni, degli appuntamenti culturali che attraverso relatori nazionali, internazionali possono arricchire con le loro visioni, il loro sapere, il nostro territorio. Il programma completo dell'evento si trova sul sito internet www.festivalinnovazione.puglia.it